Nel girone C del campionato di Serie C, la Cavese prepara in questi giorni il proprio ritorno in campo al Simonetta Lamberti, che avverrà domenica contro la Vibonese allenata da Nevi e Orlandi. Per la formazione guidata da Giacomo Modica non sarà assolutamente una partita agevole, in quanto i calabresi sono una squadra fisica, molto abile a sfruttare i calci piazzati, temibile nei colpi di testa, così come ha dimostrato nel match d'andata vinto per 2-0, anche se la Cavese sprecò un rigore quando era ancora sullo 0-0, quindi quella partita grida un po' vendetta. Rispetto al match allora giocato in ottobre, sarà una formazione metelliana anche rinforzata in esperienza, con Magrassi, Sainz Massa, Pugliese e Bacchetti su tutti, quindi ci sarà grande interesse per assistere a questo match, che si giocherà domenica con inizio alle 16.30. La Paganese, che domenica a partire dalle 14.30 affronterà il Catanzaro fuori casa, avrà qualcosa da farsi perdonare rispetto al match d'andata che aveva perso 0-4 in casa, e soprattutto avrà bisogno di reagire nella maniera giusta al KO con il Potenza, maturato nel secondo tempo dopo che gli Azzurro Stellati stavano conducendo 3-1. L'ingaggio di Paolo Della Fiore potrà dare qualcosa sul piano dell'esperienza, ma occorrerà anche che ci sia il giusto tempo affinché l'innesto dell'esperto difensore possa essere efficace. La Paganese ha 9 punti in classifica, 9 in meno rispetto al Bisceglie, che attualmente sarebbe salvo. La Juve Stabia, prima in classifica nel girone, domenica non deve giocare perché osserverà il turno di riposo. Riprenderà direttamente mercoledì 13 con il Catanzaro, mentre la Casertana domenica sarà in campo per affrontare il Catania allo stadio Angelo Massimino con inizio alle ore 16.30 e riposerà mercoledì prossimo. Coppa Italia di Serie C. Ieri si sono giocati alcuni degli ottavi di finale che erano programmati da tempo. Al provinciale di Trapani i Granata hanno eliminato il Catanzaro vincendo 1-0 con gol di Ferrera. E a Potenza i Rossoblu hanno avuto bisogno dei rigori per piegare il Monopoli. È finita 4-2 con il portiere Brezza, uno dei protagonisti della scorsa annata di Serie D, determinante dal dischetto sui tiri di Mendicino e Donnarumma. Ai quarti c'è potenza Trapani. Inoltre la Viterbese Castrense ha vinto nella prosecuzione dei sedicesimi contro la Ternana, 2-1 ai supplementari, con Polidori e Bishmarchi che hanno ribaltato il gol di Marilungo e agli ottavi dovrà affrontare il Teramo.